allora dice cristian la mia domanda è questa una ragazza come può non voler conoscere nessuno e preferisce pubblicare selfie nei social come mai ma cristian allora qua stiamo partendo dal presupposto che ci sia una persona che tu sai che lei veramente non vuole conoscere nessuno invece a me sembra più che lei possa averti detto che non vuole conoscere nessuno perché magari non voleva conoscere te che tu mi dica che c'è una persona nel mondo che non vuole conoscere nessuno a me fa sorridere ma che è cioè può essere che esista ma se hai trovato proprio la sociopatica di turno con problemi gravissimi può essere ci sono persone che nella realtà comunque per rispondere alla tua domanda ci sono persone che nella realtà magari hanno difficoltà a creare delle relazioni fit delle relazioni belle delle relazioni profonde e quindi sembra che non vogliano legare con nessuno sembra e in realtà poi magari per colmare il loro senso di solitudine vivono proiettate sulla realtà idealizzata dei social su questa realtà virtuale dove sì magari si sentono meglio all'apparenza ok poi secondo me non si sentono meglio però vabbè insomma è per dire sembra che si sentono meglio perché sono distratte ecco diciamo così io christian però se fossi in te mi farei un'altra domanda ovvero come mai mi interessa sapere perché queste persone fanno così questa sarebbe una domanda molto più evolutiva per te christian un'altra domanda e non voler approcciare con le donne perché non si riesce ad avere un interesse nemmeno di volontà di conoscenza denota una problematica interiore tipo carenza di empatia incapacità di sessualizzare nel modo giusto un qualsiasi rapporto con l'altro sesso oppure può essere una cosa normale esempio dice giovanni io non riesco a trovare interessanti le ragazze se non so assolutamente nulla di loro e vedere ragazze carine mi fa partire un interesse solamente sessuale non mentale relazionale verso la persona mi verrebbe voglia di dirle ciao mi sembri carina facciamo sesso cosa che non potrei dire per ovvi motivi piuttosto che iniziare a elaborare una strategia contorta per cercare di sperare forse di attirare il suo interesse anzi già il fatto che debba fare tutti questi voli pindarici mi demotiva e mi rende ancora più restio e distaccato all'idea di conoscere donne creandomi un pregiudizio non esattamente positivo e dice l'incapacità di riuscire a convertire un interesse sessuale con uno mentale relazionale è un problema dell'individuo in questo caso mio allora inizialmente leggendo la prima parte senza l'esempio poteva sembrare un problema tuo però con l'esempio che mi hai fatto sinceramente io ritengo normalissimo non avere interesse per donne che non si conoscono bene cioè ritengo malato il contrario perché vuol dire che hai idealizzato una certa situazione ok poi il discorso del proporre il sesso così di andare da una e dire ciao mi piaci facciamo sesso lo puoi anche fare lo puoi anche fare a me una volta è accaduta questa cosa avevo 19 anni sì o 18 vabbè comunque no 19 mi è accaduto arriva il tipo vabbè ero in discoteca insomma altri tempi arriva il tipo che tra l'altro faceva il ballerino lì della discoteca mi stavamo guardando chiaramente mi saluta mi dice ciao io ho finito il turno ti va se andiamo via assieme e ho detto va bene allora in che casi puoi fare questa cosa nel caso in cui tu te lo possa permettere cioè non sei un bel gran bel ragazzo e le tipe ti vedono così in certi casi in certi contesti puoi pure andare da una e dire ciao facciamo sesso e magari ti dice anche di sì dipende la persona adesso come adesso io se venisse uno mi dice ciao facciamo sesso ma pure se viene Ryan Gosling gli dico aspetta un attimo cioè conosciamoci un secondo prima ok quindi dipende il contesto dipende la persona dipende l'età dipende tante cose però te lo devi in primis poter permettere è chiaro che se fantozzi va da uno e dice facciamo sesso magari gli tira un cazzotto capito quindi diciamo che proporre sesso se te lo puoi permettere lo puoi fare la domanda è ti dà veramente quello che stai cercando o anche quello è un palliativo ok perché è probabile che anche quello sia un palliativo secondo me dipende tutto da quello che vuoi ovviamente se vuoi solo sesso come ho già detto devi saper concorrere con gli avversari che chiaramente sono magari più belli più prestanti eccetera se invece vuoi sviluppare un certo tipo di relazione ovviamente allora è umano e sensatissimo voler approfondire con una donna prima di decidere se questa persona ti interessa o meno ovviamente se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale se non sei già iscritto clicca sulla campanella per attivare le notifiche e poi condividilo con degli amici che pensi che possano beneficiare di queste informazioni inoltre ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette che vengono fatte sul mio gruppo facebook vero uomo crescita personale e relazionale è un gruppo segreto puoi entrare e viene rispettato ovviamente la tua privacy è un gruppo per soli uomini che vogliono lavorare sulla crescita personale e relazionale quindi trovi il link qui in descrizione insieme ai link anche dei miei prodotti che trovi sul mio sito danielacoin.it e ti invito appunto a darci un'occhiatina e ti aspetto nel gruppo ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti